ciao a tutti ragazzi sono ben e benvenuti alla nonna puntata della serie terzisti oggi siamo qui con maragame ciao a tutti allora come vedete siamo preso un fiat che non vale manco un soldo bucato perchè sgarrufa non vi va a far su, guarda che roba la colleta cade carico c'è p1 g1 l'unico l'unico ma che stacco l'unica che mi viene in mente per provare a fare un pochino oggi è un pochettino provare un pochettino fare così si on mettono a messa da cambiano gioco tappo schiaccia tutta roba c sempre il nome se funzionale l'inter cambiare parlamatari ad assolutore non corrisponde su cof il o aderido la cucina non mette manco la massa aspetta che l'ho fatto meglio allora ci sentite tasti no no allora dai però facciate che cosa stasera no mi funziona più lo mezzo e mi sei sminchiato tutto non funziona o no allora come era tasti 1 e 2 no ne ho 3G27 sono mia gemetta però no adesso c'è senza marce ne ho 3G27 c'è andato rapporto di velocità di crociera alziamolo un pochettino non so cos'è ma mi va di metterla tutto allora la modalità è eco manual 8 funziona come si come ha fatto perchè non mette più la per me spegnerelo e accenderlo può funzionare oh vedi guarda qui di in avanti no a rete B1 G1 adesso ci vorremmo fare una gara del tiro sotto campo con un carro di qui stessa pieno che cosa mi sono fatto mi sono fatto due gatti ma no con l'erpice con un rimorchio ammonte a mette a prima rilasci da frizione oh dai che ce la fa sono fiducioso vedi Samu basta guardare un pochino il cambio guarda come lo suvevele prima non lo suveva manco appagarlo adesso e questo è morto eh senza non mi fa neanche più mettere 4x4 adesso ma già si trova del cambio no no ci sta ci sta guarda un pochino non è che stanno in granate non è che stanno in granate c'è stanno in granate quelle in granate quelle in granate eh allora puoi stare 50 euro eh allora fammelo sta a fare altre cose con 50 euro no 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 camburini stai calmo eh e tu con 50 euro ti rizzano sui capelli oh dai che imballo vedi a balla no frena 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 pochino a sé ah ah dai che sei muoida ecco c'è potenza dai che motore dai che motore proviamo a fare una inversione una inversione vai Giano vai Giano il motore il motore il motore il motore il motore for real time dai rpm 10 e 5 ma è verde sparato ma è russo eh vieni avanti poco gas poco gas poco gas Samue si ma secondo te con questa rincorsa c'è la faccia al suo e se io per me si lanciassi passi ahahahahahahahahahahaha eeeh eeeh per me si spegne no, scatta la valvola sicuro stai facendo un buon forno, scatta la valvola scatta la valvola, mi sembra in cazzo dai timo spingi 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 no no assa no 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 assai assato ecco, mi ha fatto una bomba ma no, non è che mi va a marciaprete ma se sto in folle, come fa a stracere il pietro io, guarda ma questo qui, tipo, da quando tu ci metti la marcia quando le ruote prendono la coppia passano tipo 5 secondi sicuramente sono io che ho combinato qualcosa infatti, che me ne frega a me ma ci metto la marcia, no? prendo la coppia adesso ma è contrario sto cambio o sono io a mogolo magari con tutte le robe che hai pittocchiato le hai metto al contrario ma no, le gambe erano sempre cambiate qua a sinistra adesso si cambiano quella a destra se non ci fosse il tamburrini che ti spinge dai i tamburrini alza lo sei esato mi è venuta in contro ma in sui c'è che se lo fa a durare la futtana, capi? aspetta, fammi andare da fabbro tucare il letto, portolo qua mi trovo le gambe erano i campi erano non ce l'ha fatto, con tutto sacco P4G1 avrei chegliare il campo d'erba guarda sto tutto io prende coppie dopo dieci minuti Frizione automatica guarda 0, 17, 16, 17, 16, 18, 25, 20, 30 la frizione l'ha rilasciata completamente adesso ci mette tipo 5 secondi a rilasciare la frizione trova un po' su mezzo guarda 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 un po' che c'è Corbuccià vabbè, non ti ha messo in città oh soldi ora abbiamo messo in città , ora abbiamo messo in città avete messo in città avete messo in città zero per cento fangola , me ne guarda sta-son un po' un cazzo Zerro per ciò che c'è, Simo? Guarda la lama! Guarda! Guarda! Pette che ti aiuto! Pette che ti aiuto! No, non è troppo! Guarda la lama! Pi... Trenci... Guarda la lama! Ehi... Perchè... E dai... E dai... Pum! Oh dai, non c'è... Allora... E dai, voglio finire mai dormire, dai! E c'è ancora 40 minuti, c'è sta! Vano, vano, vano con questa trebbia, vano! Pette te! E' l'edemo! Aho! Io voglio combattere con te! Io voglio combattere con te! Facemola, facemola! Sì! Adio! Ma questa mura... Sì! Lo prende di coda! Dai, meno 4! Io! Niente! 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 Ci prova, ma non gliela fa! Ma se io faccio una cosa del genere... A parte prendermi gli insulti di Simo, Samu e tutto... Cruciappa! Cruciappa! Lo porta via! Via! Che vuoi un cargo? Pronti! Vuoi un cargo? Vedermi il sottrattore! Pronti! Ti vieni, vieni qua! Picchia, picchia l'ultima volta contro Simo, poi... Fermi un attimo, che ti vuoi picchi a contro! Ah, parte sia duode! Fammi te cacca qua, sta cazzo! Tevanni, tutto tu! Ma è stata una balla a sottoterra! Ah, appunto! Sta ecco, sta... Sta tutto terra! Mi credo per l'attaccata della cosa! Ma, ma, perché... Voi facevano il cuci? Non incominciare! Che problema c'ha? E guarda, sta cazzo! Spera che piglio la balla! Cosimo! Cosimo, se... Sa come è che io... Deve... Deve... Questa cazzo della balla! Devi cognarti la pianta, Simo! Devi andare a Simo, no? Aspetta, Simo! Vieni qua! Vieni qua d'appartamento! Ma non posso più usare le mani? Come adesso ho fatto? Fermati! Fermati, Simo! Fermati! Vai! Simo, qua... C'è sta... Le Valle Spase Perugambu, qua... Qua sotto, no? Dove? Ah, qua! Qua sotto... C'è sta... Un... Un'altra... Un'altra... Sotto la forza! A posto! Ti aiuto! Eh no! La Palla! Torna a casa, Alessi! Dai Simo, accelera! Beh... Devo attaccare la cosa qua! Eh... Attaccala, no? Eh... Che t'è bene? a posto qui si va vedi di nuovo qua i tamburini poco gas poco gas te l'ho detto poco gas te poco gas che ti schiappoti però secondo piano non lo faccio allora fammi vedere qua basta fagli stupidi dai abbiamo già fatto troppo oggi le valle qua sotto allora lo farà samo penso allora qui ma io non c'ho un buon puto qua eeeh cacca dell'ogne eh? ma raccolgo le uova no cacca dell'ogne cacca dell'ogne cacca dell'ogne cacca dell'ogne e quando è posto dell'ago ahahah 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 l'arquidina 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 che se me se casca l'arquidina che se me se casca l'arquidina che se me se casca ok, dismi sulla propria posizione alla barra eh? dismi sulla appitazione alla barra no se casa casca la ripresa della barra e dov'è casa? oh ci va che basta dove si ripristinano i mezzi e dove si ripristinano i mezzi e dove si ripristinano i mezzi sta bella guarda dove c'è 24 la parte 10 vicino al 10 eh c'è 24 il 36 lo sta a fare bambini guarda come Drift Alphiatt l'ignoranza proprio mi metto ciao e dai edai ma che madonna ma non mi fa salire sgarrò tutto la storia e fa cambiarsi di una roba oh eh volevi che ti viderassi il campo non lo so ma io stai andando di brutto sono tutte legate se vanno a me no no non sono legate ah te le lego sarà meglio vai ah è letto questo coso ma mi si ingrastato perchè non vuoi sta fermo ha detto e poi le ha perchè mi si ingrasta... oh le dai ma non sono pescate due l'ho fatto apposta almeno è più dritto vedi e ferme te vabbè cominciamo pure l'arabe storto che mi ingiamba ti dai un colpetto e si capotta te lo addirizzo va va bene? si avanti guarda il lag guarda il lag ok ora voglio veramente smetterla allora dov'è finito il fiat per curiosità ah ancora ecco sta ah ma si disconnessa la volume che? ma perchè? ma perchè c'è sta M ma non vale a burrini dove vai di lì? proviamo 10 ah per fortuna che ti mancava poco eh l'avevo detto io che gli mancava poco ma non sapevo che c'era da fare anche il 10 poco la 46 eh però mi ingali il prezzo eh eh mi ingali il prezzo dopo eh si eh 100 euro dopo 50 anni 100 euro 100 euro 100 50 c'ho una paura di sgarufa questo mezzo devi sapere aspettare poi cali ti fai ti fai una bomba questi 50 euro ti devi sapere aspettare oh Samu ma su mezzo ora io l'ho rimesso a posto però non non tira un tubo loco aspetta aspetta ragazzi ma c'è io Yogan dai chiari Yogan Cimaco e dai non mi attacca la folla mia te lo son messo un attimo a te ma è tranquillo dammelo te lo porta giù casa ehi che lo fa di un ben amocco però lo porta a casa adesso non sta facendo nessuna cavolata sto facendo cose serie voglio solo ma se metterò il prego viene mi si messero mezzo la distanza in avanti ma salita e farmi sbattere contro si ma se non leghi le valle non è colpa mia ok che cazzo è successo non hai la cattola non hai la cattola non hai capito un cappello non è mai per il puglia che domattina mi sveglio presto buonanotte 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 fermate 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 non mi fa nessuna vuole sapere che siete ancora in puntata vero oh giusto detto questo ragazzi vi rilassissimo per la visione da dell'anno buonanotte buonanotte è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.